Musica Buongiorno ragazzi, bentornati sul mio canale Oggi siamo qua di nuovo insieme per allenarci L'allenamento di oggi sarà un circuito HIIT Un bel total body E prima di tutto non vi servirà nessun tipo di attrezzo Ma soltanto il tappetino Incominciamo subito quindi dal riscaldamento E poi incomincieremo con il circuito vero e proprio Tranquilli che il tempo e le pause saranno scandite da me Perché vi metterò qua sopra il timer A questo punto incominciamo subito Gli esercizi di riscaldamento saranno 4 da fare ciascuno 40 secondi Senza pause Il primo saranno i jumping jacks Poi abbiamo il tocco delle ginocchia con la mano Successivamente il lateral squat E poi il superman Quindi ci servirà il nostro tappetino A questo punto faccio partire il tempo E incominciamo subito Do il via al tempo 3, 2, 1 Jumping jacks E andiamo Iniziamo a far lavorare i nostri muscoletti E a riscaldarci E a riscaldarci Corra già a zippo Ricordiamoci Adopinali sempre duri Controlliamo E andiamo 20 secondi ancora Mi ricordo sempre di tenere le gambe dritte E di non andare mai dentro con le ginocchia Ok Nel caso leggermente esterne Cambio esercizio Cambio esercizio Vado Come se dovessi spingere qualcosa da una parte e dall'altra Ok Incomincio a fare Un po' di pressione Faccio lavorare anche le braccia Ok Devo sentirle E vado Questo esercizio ma molto aerobica Poi visto anche il modo in cui sono vestita Dostia dice 10 secondi E poi abbiamo gli squat Ok Squat Con lo slancio laterale Quindi squat e slancio Squat e slancio E continuo Mi ricordo sempre che anche in questo caso Le ginocchia non guardano mai verso l'interno Ok Punte che guardano leggermente Verso l'esterno Questa raga è una regola proprio Che va applicata ad un sacco di esercizi E andiamo 5 Poi abbiamo Il superman Superman A molleggio In questo modo Ok Braccia e gambe sono coordinate Vado Continuo Continuo Mi concentro Iniziamo anche a riscaldare tutta la parte posteriore Continuiamo Continuiamo Che è solo un riscaldamento E Cinque Noi sono le ultime Ok Tempo fermato A questo punto possiamo incominciare con l'allenamento vero e proprio Infatti anche in questo caso Ogni esercizio E saranno in totale 10 Andrà fatto per 40 secondi Con 10 secondi di rest Questo circuito formato dagli esercizi Andrà fatto per 3 volte E lo faremo insieme tranquilli Iniziamo subito con l'overhead jumping jacks Poi abbiamo due tocchi delle ginocchia più lo squat Una variante del primo esercizio Barbie con tocco delle spalle più squat Questa è la chiamo sforbiciata più a fondo Squat laterale più jump Jump squat in avanti E torno correndo all'indietro Quattro plank jack più quattro tocchi delle spalle High knees da lato a lato E mountain climbers Ok adesso che tutti gli esercizi sono chiari Possiamo iniziare Vi ricordo 40 secondi di esercizio 10 di pausa Incominciamo dal nostro overhead jumping jacks E 3 2 1 Vado E inizia l'allenamento vero e proprio Vi ricordo Corro sempre contratto Le braccia non sono moglie Non voglio vedere questo Spingono Spingono Ok Sentirò la brava Un pochettino anche le spalle Se lo faccio bene E 10 secondi Continuo E 4 3 2 1 Resto 10 secondi E abbiamo Questo Faccio Mi ricordo Butto fuori l'aria Quando tiro sulla gamba Ok Quando faccio questo L'aria va fuori Ed è doppio E squat E vado Quando voglio posso cambiare anche gamba E abbiamo ancora 6 secondi Ok E passiamo Al terzo Questo Vado Vado Le ginocchia Si alzano Ok Più alzo le ginocchia Più riesco Ad avvicinare le braccia Ok Andiamo Continuo Lavorando un sacco anche gli addominali Li sentite? Vado 15 secondi Questa è dura Questa è dura Ginocchia su Ginocchia su Non dimentichiamocelo 3 2 1 Resto Adesso Abbiamo il Barbie Col tocco delle spalle Più lo squat Vado Vado Barby Tocco delle spalle Jump Continuo 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 Sarà Adesso meglio I Barbie Li avvolo Vi giuro E andiamo Continuo 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 Manca poco Dai che andiamo alla volta Ok 10 secondi meritati Adesso abbiamo la sforbiciata Più l'affondo E vado E vado Sforbiciata 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 A fondo Alterno Sempre Le gambe Questa è soltanto un po' Coordinazione Quindi Se fate fatica all'inizio È normale Ma basta farlo qualche volta E verrà naturale Uh Continuiamo Sentite le vostre gambette lavorare? Io sì Su 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 Ok Abbiamo Lo squat laterale Tocco Tocco Jump Tocco Tocco Jump Il jump è Quando ho I piedi uniti Ovviamente Più sto basso Più faccio fatica Ok Quindi Giù Non voglio vedere questo Eh Giù Scendiamo Se voglio Cambio tamba Eh Per iniziare E 5 Continuo Ok Ok Bravi Adesso Abbiamo lo squat saltato Vado Scaldi davanti E torno indietro Correndo Vado 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 Faccio attenzione Io non crede Da quello di sotto Rag Faccio il rumore Tra poco Evi da suonare Andiamo Continuiamo Continuiamo 10 secondi Ancora Dai 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 Ok 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 Plank jack Con tocco delle spalle Vado su E Plank jack 4 E 4 Tocchi delle spalle E di nuovo Plank jack Tengo il cord Ok Devo essere parallelo Al soffettino Continuiamo Dai 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 10 secondi Siamo qua Dalla fine del primo giro E Rest Adesso abbiamo gli agnes Lato Lato E vado Questo anche questo Quanto in coordinazione Mi devo proprio Bloccare Quando arrivo Agli estremi Cerco di fare Almeno 3 pastetti Eh E vado Mi ricordo Espiro Quando tiro su La gamba Voglio sentirmi Montate fuori l'aria Forte E continuiamo Ok Ultimo I mountain climbers Questi piacciono a tutti Lo so Giù Diamo il mattimo Spingiamo 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 E anche la velocità Chi è stanco Può fare questo Invece 10 secondi Dai dai E Rest 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 Mi è stanco Bravi Bravi a tutti A tutti Quelli che sono arrivati Fino a questo punto Adesso Metto Qualche Secondo Di recupero E Incominciamo Un altro giro Sono 3 giri Eh raga Non dimentichiamocelo E poi Ricominciamo Dal primo esercizio Come sta andando Bello Faticoso Eh Non tembra Ma Si suda parecchio E 3 2 1 Iniziamo Overhead Jumping Jets E di nuovo Andiamo Per il secondo giro Bene Prima eravamo belli freschi Adesso Incominceremo A sentirlo un pochettino Di più Ma non vogliamo Ricordiamocelo Se siamo stanchi Li facciamo più lentamente Ma non fermarsi Mai Ok Dai Dai E 5 Rest Ricordatevi Questo E Squat Vado Squat Squat Butto fuori L'aria Voglio Sentirti Ricordatevi Sempre La posizione Della ginocchia È importantissima Mai Verso L'interno Che Ci facciamo Male Ok E Continuo Non Mi Fermo Dai Dai 10 Secondi Butto fuori Butto fuori L'aria Ok Adesso Abbiamo Questi qua Sono belli Tosti E non pensavo Vado Ginocchia Alte Sono come Degli Skip Vado Ginocchia Alte In questo Modo Più Le ginocchia Sono alte Più Sto dentro Con la schiena L'esercizio Viene Meglio Addominali Sempre Contrasti E andiamo Su le gambe Su le gambe Dai Dai E Cinque Ok Barbie Ci ricordiamo Vado Barbie Top Spalla Top Spalla Jump Vado 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 Dai Tengo Preferito Ci tengo Che lo facciate Bene Continuo 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 15 Secondi Vado Vado Non mi fermo È dura Non so Ma per migliorare Un po' di fatica Bisogna sempre Palla E Stop Passiamo Al prossimo Esercizio La scorbiciata Con la fondo Vado Prima Una gamba E poi L'altra Busto Dritto Ok Non fermiamoci Mi riusciamo Mi ricordo Il ginocchio Non supera mai La punta del piede Ok 10 secondi Continuo Dai dai Non vogliamo E Stop Bravi Abbiamo Lo Quattro Laterale Più Salto Passo Passo Salto Valto Cambio Salta Sto basso Sto basso Così Voglio vedere un bel salto Eh Alziamoci da terra Dai dai Continuiamo Manca poco Uh Ok Cosa abbiamo adesso Gianco Fuori in avanti E salto E salto Facendo i passettini Uh Questo Fatelo Se siete Belli Stabili Di ginocchia Eh Se no Si rischia Di farsi male Andiamo Questo Questo è un altro Di miei preferiti Raga Eh E dire Serio Uh Ma è bellissimo 10 secondi Forza Forza Rest Ok Abbiamo il plank jack Ok Più quattro tocchi Vado Plank jack Sono quattro E quattro tocchi Delle spalle Vado Uh Quattro tocchi Delle spalle E continuo Ricordiamoci Non fermiamoci mai Ralleggiamo nel caso Ma dai Non mi supportiamo La termine Tanto ormai Abbiamo iniziato Siamo già più di metà Quindi Come si fa a mollare adesso Vi ricordo Corro Parallero Al tappetino Uh Altro esercizio High knees Vado Da una parte E dall'altra Continuo Continuo Non fermiamoci Continuiamo Continuiamo Manca poco Inizio A sentirvi Ricordiamoci La respirazione Che è fondamentale Mi blocco un secondo Da quando arrivo qua E ok E poi iniziamo L'ultimo giro Comprimenti Vai Continuiamo Su 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 Ci siamo Ci siamo Aumentiamo Un po' la velocità Dai dai E poi Ritalenziamo E lo facciamo Di nuovo Facciamo gli ultimi Dieci secondi Velocissimi E vado Aumento 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 Spingo Spingo Tutto che posso Dai Dai Complimenti Complimenti Recuperiamo un attimo Mamma mia Ragazzi Si sente tutto Che cardio E ricominciamo E ricominciamo L'ultimo giro Come va Eh Faccio finta Che mi rispondiate Bene Io inizio un pochettino Ad accusarlo Però Un altro giro Secondo me Ci sta tutto E i secondi Di recupero Sono finiti Incominciamo dal nostro Overhead Jumping jacks E Vado Ultimo giro Do al massimo Coro attivo Ginocchia Mare sull'interno E continuo Devo essere Dritto Guardo avanti In questo modo E continuiamo Inizia ad essere duro Eh Questo ultimo giro Ma noi non ci abbatte niente E manca poco E questo ce lo siamo Tutti a casa Uh Ok Questo Più lo squat Vado Vado Ricordo La respirazione Fondamentale Buttate fuori l'aria Si deve sentire Andiamo Andiamo In squat Spingiamo Sui talloni Ok Continuiamo Ginocchia Ti guardano sempre Leggermente Vace l'esterno Ok Dai raga State andando Benissimo E Abbiamo Abbiamo Questi qua Vado Skip 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 E tiro su Tiro su Le ginocchia Chi vuole Può farlo Anche senza Il tocco Delle mani Che è un po' Più facile Ma noi le cose facili Non ci piacciono E quindi Lo facciamo così Dai dai Continuiamo Dieci secondi E questo secondo me È il peggiore E non lo facciamo più Perché è l'ultimo giro Benissimo Barpie Che nostro amato Barpie Vado Barpie Tocco Salto Ok Bene bene Non ci ferma niente Non ci ferma niente Non sono mica Qualche barbie A metterci Cappò Vero? Dai dai Continuo Continuo Benissimo E abbiamo fatto il dingo Ok Cosa abbiamo adesso La sforbiciata Mi pare che la ragazza Malla così Io non so bene il nome Però il nome Sforbiciata Rende l'idea Vado vado Dai che l'ultimo Lo so piuttosto questo Non facciamoci Abbattere O sconfiggere Da qualche A fondo Dai dai Addome Sempre Contatto Mamma mia Abbiamo Lo squat Con il trucco Laterale E salto Andiamo Siamo Basti Dai 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 Non ci ferma niente Siamo a più di metà Di questo ultimo Giro Salto Voglio vedere Dei saltoni Spingiamo Giù i glutei Su 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 5 secondi 5 secondi E' un altro andato Squat Jump Vado Ti vado Ti vado indietro Su 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 Che abbiamo quasi fatto Non ci dobbiamo fermare Vi ricordo Fatemi più lenti Mai Fermati Ok Cerco di non bilanciarmi Troppo in avanti Con il peso Ok E' un'altra E' un'altra E' Vado 1 2 3 4 4 4 tocchi delle spalle Di nuovo Conto Conto Ne faccio Tintando Non sento La campanella Suonare Dai che sono Gli ultimi Continuiamo Continuiamo Dai 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 E 3 Benissimo High knees Lato lato E' il penultimo Vado Potete fare anche più parti Eh Io ne faccio così Perché se no Riesco dell'inquadratura O vado contro il mobile Quindi Mi fermo eh E' un blocco proprio Blocco E butto fuori l'aria Sto un po' Che sì Ragazzi scusatemi Mi sei fermata Della distrazione Finiamo questo E facciamo I Monta e glider Senta pausa Ok Vado Scusatemi Ma la mattina Mi ha fatto un bello scherzetto Monta e glider Sono gli ultimi Quindi Andiamo Spingiamo Aumentiamo la velocità Dai 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 Diamo il massimo Uh Si deve vedere Ci siamo allenati eh Uh 10 secondi Forza Forza Uh Questo rumore E' bellissimo E' il rumore Di fine Allenamento Fine workout Ok ragazzi Anche questo workout Finisce qui E' stato breve Ma Davvero Intenso Come potete vedere Fatemi sapere qua sotto Nei commenti Se vi è piaciuto O avete qualche richiesta Particolare Per quanto riguarda Un workout Che vorreste vedere Sul canale Sempre in modalità live E come al solito Se vi è piaciuto Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo In un prossimo video Ciao Buona doccia a tutti Perché mi sa che ce n'è bisogno iti Ma No I